I metalli pesanti nei vaccini causano malattie, malattie pesanti, malattie gravi che sono tuttora incurabili, fanno appoggiando il metodo prostamina, fanno appoggiando tutte le qualifestazioni, tutto ciò che possa essere portato alla vera normalità. Le voti anche noi sono loro che contavano il mondo, sono loro che contavano il sistema di racconto.